Questo è sicuramente un mille di agrumolo, perché stanno in pian di limone qua. Questi stanno tutto quanto appeso a un mille, vedi? Questa è bella piena, io l'ho lasciato sui sette della iva. Se parliamo se hanno delle celle reale. Questa è bella piena, io l'ho lasciato sui sette della iva. Se parliamo se hanno delle celle reale. No. Torcelle di fughi. No, no, che ci sia. Un peso più grande. Un peso più grande. Un peso più grande. Questo è un bello reggino giù, e qua c'è lettere ali, poca roba, non ce ne stanno, non ce ne stanno. Questa è la forza, è la forza, il tazzo, il cazzo, il cazzo si porta sotto, perché è ballo troppo. Stanno iniziando a salire a Milano, però, la Milano è messa da contro. Vediamo sotto come stanno, se è questa la famiglia che è sciamata, se è sciamata questa, viene. Probabilmente ne faccia poco. Non mi resta raccogliendo, però. Ecco la reggina. Alla, com'è il cazzo, è un po' di giù. E' vola, è un po' di giù. Ma come si è un po' di giù. Voi, vieni, vieni, vieni. A lì, vieni, vieni. Ok. Grazie.